Crea più primitive grafiche. Su un scheda inizio gruppi disegna attiva comando contorno. Nella finestra di dialogo apporta le modifiche necessarie d'accordo con la scelta. Premere OK. Sul campo da disegno sposta il cursore scegli un punto premi il tasto sinistro del mouse. Premere il tasto invio sulla tastiera. Sul campo da disegno posiziona il cursore un oggetto tieni premuto il tasto sinistro del mouse sposta il cursore. Grazie. Grazie a tutti